Adesso ovviamente la parola al Presidente del Consiglio. Grazie Federico, grazie Sindaco, grazie Sindaci. Notare che i sindaci che hanno parlato sono le tre F. Federico, Filippo e Fabio, sindaco di Pa, tra l'altro tre colori politici diversi, tre coalizioni diverse, ma quello che è straordinariamente bello quando si fa il Sindaco è che nel rispetto delle opinioni politiche che ciascuno di noi ha, perché non abbiamo vinto un concorso ma stiamo svolgendo il nostro ruolo chiamati ed eletti dai cittadini, c'è però la convinzione che si opera per il bene comune, quello che poi ha detto Grecia e che ha ripetuto Gabriele al termine del suo intervento. Io cercherò di essere molto operativo e sintetico nelle considerazioni che voglio fare, ringraziando di nuovo Pizzarotti per l'accoglienza, ringraziando il Comune di Parma, il Prefetto di Parma, i parlamentari presenti e tutte le persone che hanno reso possibile questo momento. Noi abbiamo scelto di fare una serie di passaggi nella provincia di Parma per dare innanzitutto attenzione ai temi del lavoro. Siamo partiti da qui, perché oggi questa è la priorità. Noi siamo in un momento nel quale la difficoltà sul lavoro è una difficoltà che voi conoscete benissimo. Dove va un cittadino che perde il posto di lavoro? Ha ragione Federico, ha ragione Filippo, ha ragione Fabio. Non è che va su internet, va in Comune. E chi becca, becca il sindaco, specie nei comuni più piccoli. A me faceva ridere quando c'era la stagione dei tecnici, no? E da sindaco di una grande città, comunque c'è grande città, media città numericamente per il mondo, ma grande città per l'Italia e anche per la sua storia, io comunque avevo scuoli di tecnici, di funzionari. Io immagino un sindaco, vengo da un comune piccolo, di 3.000, 4.000, 5.000 abitanti, non è che parli con il direttore generale che in questo momento va diretto, apre la porta, entra dentro e voi lo sapete. E allora nella stagione dei tecnici spesso mi è venuto da dire che i veri tecnici sono i sindaci, che sono quelli in prima linea, in prima fila e se le beccano di tutti i colori, e che però sono anche in qualche misura il punto di riferimento di una comunità. I sindaci del terremoto, per restare in questa regione, hanno fatto gli psicologi della comunità, oltre che quelli che si dovevano occupare di burocrazia. E tutti voi sapete perfettamente che oggi la priorità si è un po' attenuata, si è bloccata l'emorragia, ma la priorità continua ad essere assolutamente il lavoro. 937.000 posti di lavoro persi in sei anni. Da aprile 2008 a aprile 2014. È una cifra pazzesca, spaventosa. È un milione, poco meno di un milione di posti di lavoro, ma in meno. E il fatto che in questi ultimi sei mesi si sia interrotta l'emorragia, anzi la curva sia tornata a crescere, non significa niente, perché 153.000 a fronte di 937, sono un passo in avanti, ma diciamocelo tra di noi, tra di noi, diciamoci la verità, ancora tutt'altro che sufficiente. Quindi l'idea è stata quella, andiamo in aziende, in realtà, dove comunque si possono vedere dei risultati, dove si possono incoraggiare. Le lavoratrici, i lavoratori, le imprenditrici, gli imprenditori, anche perché bisogna superarla con questa storia che nelle aziende le imprese sono contro i lavoratori, i lavoratori sono contro gli imprenditori. Noi siamo in un momento in cui è corretto che ci sia un dibattito fuori, che ci siano polemiche, tensioni, critiche al governo. Questo è tutto legittimo, perché siamo in democrazia, fortunatamente. Però non si deve dividere tra chi lavora, oggi uno di un giornalista, la Dallara mi ha chiesto ma lei cosa pensa qui, imprenditori contro operai? Ma di che stiamo parlando? Quando poi sei in azienda, quanti sono gli imprenditori che si sono spaccati la schiena per consentire di non perdere neanche un posto di lavoro? E quanti lavoratori hanno lavorato ben oltre l'orario di lavoro, indipendentemente dalla retribuzione, è perché l'azienda andasse avanti. La nostra storia di comunità, come dicevano Greci e Gabriele, vale per il commercio, vale per le piccole imprese, per gli artigiani, è questa storia qui dove non è che si fa grandi discorsi ideologici, ci si tira sulle maniche e si cerca di lavorare insieme. Ho scelto di essere a Parma perché riconosciamo in Parma una realtà importante del nostro Paese, una realtà importante a tutti i livelli, una realtà importante per il proprio aeroporto. Erano proprio i giorni, tra l'altro, dell'alluvione, per cui tu non sei venuto, ma ci eravamo tenuti in contatto, aeroporto che, come sapete, sta dentro il protocollo di intesa firmata alla presenza del Premier, del Primo Ministro cinese. Siamo andati in una delle principali aziende di questo territorio, che è la Pizzarotti, per parlare della ripresa nel settore delle costruzioni. Considerate che del milione di posti di lavoro perso, nei 937 mila, più di mezzo milione è nel settore costruzioni indotto. E questo è un grande problema. Poi, da sindaci, noi sappiamo che, a livello urbanistico, non si può pensare di continuare a cementificare dappertutto. Bisogna intervenire sul recupero, sul riuso, sulla possibilità, magari, anche di superare certi vincoli che ci sono, assurdi ci arrivo, Fabio, ma dei vincoli che consentano, come succede in tante parti del mondo, se vuoi buttar giù e ricostruire, magari con un'efficienza energetica degna di questo nome, senza andare a dire A, A più, che sono cose incomprensibili, ma dando, come fanno in larga parte del mondo, quanto risparmi se fai l'efficienza energetica in casa tua, quanto riesci a recuperare di bolletta, questo fanno nel Regno Unito o negli Stati Uniti, per dimostrare quanto è importante un investimento su questo settore, bene, il rilancio dell'urbanistica passa sicuramente dallo sblocco di alcuni cantieri di politica, nazionale e questa è la filosofia dello sblocco Italia, poi a qualcuno piace, a qualcuno no, è naturale che questo accada, la filosofia è quella di portare investimenti all'estero, perché è evidente che nel momento in cui alcune aziende vanno forti anche all'estero, sono in grado poi di investire in Italia, io ho incontrato, girando per questi primi nove mesi, diversi paesi del mondo, tantissime aziende che con l'utile che fanno all'estero riescono a tenere in piedi realtà italiana, divido tra chi va a delocalizzare per abbassare semplicemente i costi e chi fa investimenti all'estero perché consente di tenere in piedi realtà in Italia, ce ne sono diverse, ve lo garantisco, ci sono tanti business, perché nel mondo c'è una grandissima fame d'Italia, siamo noi che ci ricordiamo e ci ricamiamo sopra un racconto di noi stessi che è un racconto da macchietta, cioè noi abbiamo un sacco di problemi e lo sappiamo, poi ci arriverò nel dettaglio molto rapidamente e spero di essere super sintetico, abbiamo un sacco di problemi, lo sappiamo, però il racconto da macchietta che facciamo dell'Italia, tipico da talk show, serale, televisivo, musichina, tutti vanno via, tutti i cervelli all'estero, in Italia siamo al 227esimo posto, su 200 paesi peraltro, in tutte le gradatorie, perdiamo posizioni ovunque, non è così, abbiamo molti problemi, ma abbiamo anche straordinarie aziende, straordinarie imprese, straordinari lavoratori, straordinarie opportunità di territorio, perché se voi mettete insieme le qualità che, per esempio a Parma, dall'agroalimentare all'innovazione, alla cultura, alla bellezza del vivere, noi dobbiamo smettere di pensare che il nostro racconto esterno sia soltanto un racconto fatto di lamentazioni da tragedia greca, dobbiamo affrontare i problemi che ci sono, perché negare e buttare i problemi sotto, nascondere la polvere sotto il tappeto, no, ci sono tanti problemi che vanno affrontati, però io parto dalle aziende per dire guardate che ce la possiamo fare, anche perché i giri per il mondo ti dicono, ultimo questa mattina ho incontrato il Presidente della Repubblica del Senegal, ma sono stato da Turkmenistan al Vietnam, fino naturalmente alla Cina o agli Stati Uniti, quello che noi vi invidiamo non ci invidiano soltanto i quadri o la bellezza dei nostri luoghi, ci invidiano la qualità dei nostri ingegneri. E ho provato un grande senso di orgoglio quando sono entrato alla Tallara oggi, pensando che quella realtà è una delle realtà più innovative, non soltanto della vostra provincia, una realtà nella quale si corre un gran premio che non è soltanto il gran premio delle auto, ma che è il gran premio dell'innovazione. Ed è strepitoso che ci sia una realtà in questo modo. Non ho visto la Chiesi, Chiesi non c'era, ma le ho incontrate a Roma a proposito di altra realtà innovativa. Dopo andiamo da Barilla. E chiedo scusa a quelli che non cito, non posso fare l'elenco, per dirvi che soltanto nella vostra realtà in mezzo pomeriggio ho visto un sacco di belle storie. E probabilmente se cercasse ciascuno di voi mi racconterebbe... E caspita, però, se venivi nel mio comune ti facevo incontrare dalla piccola realtà magari la media azienda che sta innovando, investendo. Promesso a Dallara che torno se lui costruisce il centro ricerca con alcune assunzioni che farà per il prossimo anno. Ecco, questo è il quadro di ragionamento, che è poi la bellezza del nostro stare insieme. Lei ci diceva giustamente noi siamo orgogliosi del nostro quartiere. Io da sindaco regalavo sempre un librettino che si chiama il Napoleone di Notting Hill che è un librettino di Chesterton dove c'è un sindaco pazzo scatenato pazzo che difende si mette in testa di essere il sindaco del suo quartiere anche se il suo quartiere non è una municipalità. E questo sindaco ama quel territorio state dicendo che è lui c'è un concorrente però glielo mando lo mando al sindaco è bellissimo è un racconto ovviamente è un racconto di Chesterton quindi è scritto come potete immaginare comunque qualsiasi racconto che io vi possa fare è riduttivo rispetto alla bellezza dell'opera ebbene in questo racconto c'è l'idea di una comunità che sente grandioso l'idea dello stare assieme per il quale addirittura si combatte in quel caso il sindaco va a finire male non vi dico al finale ma evitiamo di tanto non è un giallo però il punto centrale è esattamente questo noi siamo una comunità la comunità italiana voi siete la comunità poi ho capito la differenza tra parmese e parmigiano quindi sono anche abbastanza con un po' di sforzo siete una comunità e come tale avete tante realtà straordinariamente importante e significativi ah va tutto bene madame la marchesa no i problemi ci sono provo a elencarli anche quelli che abbiamo che non abbiamo risolto noi o se qualcuno può preferire abbiamo creato noi ce ne sono diversi partirei dalle cose che diceva Filippo che sono molto contento che si sia presentato come sindaco non perché abbia qualcosa contro le province o perché ricordi una campagna elettorale di quando era due anni fa ormai l'anno scusa è cambiata la vita un anno fa no erano due anni infatti beh un anno e mezzo sembrava erano due o le ultime ero sindaco comunque ancora sì quindi questo mi ricordo e che eravamo in piazza no? con il modello istituzionale che noi abbiamo immaginato per le province è chiaramente un modello di comunità di sindaci poi in Parlamento è venuto fuori una piccola variante per cui lo dico con rispetto votano tutti i consiglieri comunali io personalmente come sapete preferivo il modello ANCI iniziale ricorderebbe che era quello che i sindaci sono di per sé il consiglio provinciale come tale sono un'assemblea che ha o il sindaco tra di loro o il comune capoluogo c'erano due varianti ma comunque i sindaci poco importa la sintesi è che non possiamo immaginare che le province tornino ad avere il significato e la forza che avevano prima con l'elezione diretta perché devono essere una sorta di ente di secondo livello poi mi dirai e mi direte sì però i soldi ci vogliono per le strade e per le scuole giusto corretto per le strade e per le scuole io ho fatto anche il presidente della provincia 9 miliardi e 4 era il budget complessivo delle province nel 2013 è diventato 9 miliardi ci metto anche la spesa investimenti è diventato 9 miliardi nel 2014 con il decreto legge 66 quello dei tagli alla politica dei tagli degli 80 euro cioè quello di marzo noi abbiamo detto siccome vi togliamo delle competenze andiamo a togliere anche un tot di soldi e un tot di personale il personale deve per forza andare in altre da che puoi licenziare quindi il personale lo sposti come? lo sposti agevolando ci saranno norme anche in stabilità su questo il passaggio di personale dalle province ad altre istituzioni se dobbiamo prendere dei cancellieri per la giustizia iniziamo a prendere gli amministrativi delle province però non puoi nemmeno immaginare che con un ente che diventa di secondo livello rimanga la stessa macchina della provincia di prima perché a me è capitato lo dico così parlo e mi scuserete dieci nanosecondi come con l'altra giacchetta è capitato diciamo nella veste di segretario partito ricevere sms dai miei abbiamo ripreso la provincia di vattene a pesca terme non è che hai ripreso quella provincia perché non è che hai fatto un voto popolare per cui il presidente della provincia ha la stessa forza del presidente della provincia detto direttamente il presidente della provincia guida una comunità di colleghi cambia le proprie deve intervenire su 1400 km quanto Filippo 1400 km 37 studi scolatici bene che ci intervenga ma è chiaro che si riduce il budget della provincia ed è chiaro che si deve ridurre il numero dei dipendenti provinciali spostandoli in altri enti ed è chiaro che non si fa il turnover in provincia ed è chiaro e ho finito che gli immobili della provincia non puoi continuare affittare scusate se entro un po' nel merito ma tanto tra sindaci ci capiamo questo è il primo tema quindi il modello istituzionale prevede il superamento dell'ente come lo conosciamo oggi deve rimanere il comune la regione e la provincia deve essere un'assemblea di colleghi che si incontra e approfondisce determinate questioni con l'intelligenza e la longimiranza di avere uno sguardo istituzionale più che uno sguardo di parte politica questo è il primo tema entro nel secondo punto sì però con la stabilità continui a fare i tagli anche tu non me l'hanno detta così ma insomma faccio la versione mi hanno avuto faccio la versione breve ne abbiamo parlato a Milano all'assemblea dei lanci noi è evidente che dobbiamo entrare nella logica in cui lo Stato deve dimagrire lo Stato Roma questo significa ne parlavo a Milano non ve la faccio lunga perché non sono qui a farvi l'elenco delle cose che stiamo facendo però è un lavoro difficilissimo lo sanno i vostri rappresentanti in Parlamento di semplificazione dobbiamo far smettere i ministeri di dialogare come se fossero degli enti diversi una delle cose che ho chiesto di mettere in stabilità stiamo lavorando all'emendamento lo sa Pagliari perché lo presenteremo al Senato è quella di mettere delle norme per cui per esempio dai siti internet all'informatica tu vieni da un'esperienza filmatica no Federico dall'informazione all'informatica si centralizza a livello di governo la spesa sapete quanto risparmiamo? se voi guardate quanto mettono i singoli ministeri sui software che acquistano sui contratti che hanno pazzesco allora ridurre semplificare andare a una centralizzazione di questo e anche della comunicazione il sito del governo deve essere il sito del governo non 16 siti di 16 ministeri che dialogano con gli altri come se fossero entità diverse su cose che voi sapete bene perché quando un assessore riparte e si mette in testa magari un comune medio di fare per i fatti suoi rispetto agli altri voi come sindaco lo prendete per l'orecchio e lo riportate al posto di solito con tutto rispetto per gli assessori a parte gli assessori al bilancio che vedo con sguardi particolarmente tordi e cattivi però il punto è questo qua cioè il meccanismo il modello di semplificazione quindi noi questa parte la stiamo facendo però anche le realtà locali che hanno contribuito fin troppo fin troppo no beh sì abbastanza è passato devono essere messe nelle condizioni di avere uno scambio lo scambio che vi proponiamo è questo da un lato anche i comuni fanno parte di questo percorso come hanno fatto in passato dall'altro libertà da alcuni obblighi assurdi che abbiamo faccio degli esempi stupidi l'anno scorso quando arrivò la stabilità io rimasi colpito perché c'era l'obbligo se vendevi un immobile di dedicare una parte di questo immobile mi pare fosse il 10% 7% non ricordo al debito pubblico ora se io vendo la casa se io vendo un immobile nel comune perché ci ritengo utile accorpare magari perché ho fatto una bella operazione di accentramento delle sedi o perché non serve più o perché faccio cassa e prendo 5 milioni se è il 10% per il debito sono 500 mila euro ora il debito pubblico in Italia è 2 mila miliardi di euro l'idea di prendere questi soldi e di dover è quasi una presa in giro nei confronti dei comuni che invece magari con 500 mila euro in più riescono a farci un investimento su un asilo nido allora gli obblighi che io definisco tecnicamente parlando con un complicato messaggio giuridico tardo rinascimentale gli obblighi stupidi li cancelliamo avete degli obiettivi fate come vi fare ma raggiungete quell'obiettivo è un obbligo che ti venga a dire tu devi prendere tre funzionari di due che abbiano uno i capelli rossi uno abbia almeno 12 anni di esperienza però magari sbagli ti cambia la legge ti arriva l'ispezione del MEF e ti porta una multa noi abbiamo avuto i nostri dirigenti fermi per anni sulle ispezioni del MEF cioè del ministero delle economie delle finanze ti do la libertà di fare come credi sulla base degli obiettivi sulla base tu hai questo obiettivo raggiungilo ti allargo lo spazio di patto noi lo spazio di patto lo allarghiamo dell'80% lo dico tra di noi di fatto è come aver eliminato il patto per il prossimo anno perché? perché è vero che potreste fare anche di più però ragionevolmente per come sono stati i progetti fatti in quest'anno non credo che siate nelle condizioni anche perché poi il meccanismo è stato talmente stupido che tutti noi abbiamo un po' ridotto la progettazione avendo la preoccupazione poi di non poterli spendere non so come funziona da voi anche perché poi in un comune piccolo a maggiore ragione la progettazione costa mentre se fai un preliminare in un comune grande tira baralla neanche te ne accorgi in un comune piccolo sono soldi e quindi uno preferisce non farlo a meno che non abbia risorse interne per farlo ma magari le risorse interne sono andate via e quindi il meccanismo che tutti noi conosciamo quindi di fatto il prossimo anno il patto non c'è ripeto è un elemento di novità mica da ridere avete progetti pronti canteriamoli come abbiamo fatto sulle scuole forse non ce la siamo venduti bene mi frega niente di vendermela il punto vero è che è un'operazione seria spero che non so se qualcuno di voi ha utilizzato questa possibilità che è stata data devo dire purtroppo più al nord che al sud questo è un altro tema noi dobbiamo fare una grande questione mezzogiorno ovviamente non ne venga a Padra a Parma però ecco su questi punti pronti a discutere e a ragionare anche perché il 2015 deve vedere risultati concreti e chiudo e vengo troppo lunga ma sono parlato chiedo scusa ai cittadini presenti ma ho parlato un po' agli ex colleghi la partita dei 300 miliardi di Juncker si gioca qui cioè mi spiego lì la vicenda è il noto la nostra discussione europea non centro abbiamo opinioni diverse anche se euro non euro cioè le cose che conoscete noi abbiamo detto come Italia dopo l'elezione europea ci siamo trovati con l'Italia guidata da una coalizione naturalmente ma con un partito che era il principale partito più votato in Europa e molti di voi fanno parte di questo partito cosa abbiamo detto abbiamo detto noi appoggiamo Juncker perché era la prima volta che c'era l'elezione diretta simil diretta del Presidente dell'Unione e della Commissione a condizione che lui faccia uno sforzo per un'Europa che non sia soltanto austerità ma sia crescita vi segnalo che in Australia la settimana scorsa il G20 tutti parlavano di crescita e investimenti dopo che per anni ci siamo beccati la storia rigore rigore al di là delle modalità attraverso le quali si finanziano gli investimenti che saranno in parte pubbliche e in parte spero anche di attrazione di investimenti privati il punto centrale è che questi denari non vadano a incidere sui vincoli perché se tu hai faccio un esempio un miliardo di investimento nelle scuole che servono tre tre e mezzo in Italia per fare un capolavoro se tu metti un po' di soldi sulla banda larga c'è il piano banda ultra larga che il governo sta presentando in queste ore se li metti sul dissesto idrogeologico adesso ci arrivo e consenti a chi fa questi investimenti di stare dentro le regole ma fuori dai vincoli cioè questi denari qui riesci a toglierli dai limiti dei vincoli europei già abbiamo fatto un passo in avanti mica da ridere perché se voi immaginate di poter mettere quanto una decina 15 miliardi su sta roba qua senza vincoli è chiaro che per tutti noi è un elemento di grande novità bisogna però e su questo è importantissimo il lavoro che stiamo facendo in questo senato proprio Pagliari e il relatore fare un grande lavoro sulla pubblica amministrazione per evitare che se si va in conferenza dei servizi lo Stato ci venga con 28 realtà diverse oggi tu vai in conferenza dei servizi e già questa provincia qui può cercare di fare un lavoro di dialogo tra colleghi maggiore di prima cioè da sistemare la cassa di espansione difficilmente i sindaci sono in posizioni diverse su questo però magari c'è la provincia può aiutare in questo senso ma è lo Stato che non si può presentare con la sovrintendenza che dice una cosa con i vigili del fuoco come ne dicono un altro con la struttura di controllo dell'Inps che ne dice un altro ancora con tutta una serie di soggetti che dicono cose diverse in cui prefetto l'ufficio territoriale di governo deve svolgere un ruolo di coordinamento e alla conferenza dei servizi lo Stato deve parlare con una voce sola anche questa è la rivoluzione che dobbiamo fare che stiamo impostando e alla quale sono certo arriveremo in un tempo nel caso della PA c'è un problema di delega ma insomma non credo calende greche rimane il punto del dissesto idrogeologico voi sapete che appena arrivato noi abbiamo messo il due cose l'unità di missione sulla scuola con le cose che abbiamo ricordato prima e l'unità di missione sui cantieri per il dissesto idrogeologico oggi vediamo che questa cosa non era così banale come sembrava perché abbiamo iniziato ma ancora c'è moltissimo da fare come purtroppo avete avuto modo anche di verificare voi poi c'è una parte di calamità che perché questo deve essere anche detto c'è una parte in tutta Europa ci sono le calamità naturali e le alluvioni quindi non è che noi possiamo immaginare di cancellarle dalla sera alla mattina dappertutto ci sono problemi legati al valtempo quello che fa invelvire è che questi problemi legati al maltempo potrebbero essere con una cassa di espansione ridotti perché in alcune vicende c'è veramente da strapparsi i capelli alla rabbia penso ovviamente ai commercianti che magari vedono io ovviamente ho visto una signora a Genova vista soltanto come dire come messaggio ma insomma ha rifatto il non so se era un bar una pizzeria mi sembra ha rifatto la pizzeria dopo che era stata nello stesso pezzo di bisagno nel 2011 alluvionata fa il mutuo e dopo tre anni nello stesso identico modo questo no questa non è calamità questo è un problema vero che noi dobbiamo assolutamente che le realtà locali e noi siamo disponibili di dare assolutamente fare allora sul dissesto geologico noi abbiamo dei fondi avanzati da sbloccare immediatamente per un miliardo di euro per 69 interventi nelle aree metropolitane con il progetto città sicura i fondi vengono dal piano di prevenzione e dallo sblocca Italia metteremo questa è una cosa importantissima online in modo chiaro leggibile tutte le spese per capire anche i sal gli stati di avanzamento lavori cioè tutto deve essere chiaro tutto deve essere verificabile io vedo che nell'opera pubblica del avevo detto il bisogno per non parlare di realtà parmese o parmigiane e mappa di georeferenziazione di tutti gli interventi monitoraggio costante di tutti gli interventi quindi trasparenza il sito sarà italiasicura.governo.it il punto centrale è che i bandi di gara e qui sta la questione della pubblica amministrazione in prospettiva dovremo arrivare al bando di gara con il click cioè tu hai il giorno della gara in prospettiva 23 marzo c'è la gara c'è uno standard di gara e il 23 marzo è giudicato all'attizio a Caio e si smette di far lavorare gli avvocati perché negli appalti pubblici in Italia lavorano più gli avvocati che non i manovali gli interventi che sono fissati vanno da Milano Venezia l'Emilia ovviamente la parte del Leone lo dico lo fa Genova per ovvi motivi fino a Messina ricorderete ciò che accadde a Messina su tutti i singoli interventi siamo pronti a fare la nostra parte certo certo c'è un problema che è il ristoro per i privati e questo è un tema complicato perché al di là della norma che può permettere di intervenire dopo in un mondo perfetto ma oggi non si può fare per tutto il casino che c'è stato sopra la tassazione sulla casa sugli immobili forme di assicurazione sul singolo immobile dovrebbero essere previste con forme agevolate io ti faccio un pacchetto e ti dico l'assicurazione la facciamo sulla singola casa o sul singolo negozio oggi c'è una tale confusione sulla tassazione immobiliare che non se ne può neanche parlare immagino almeno che non ci sia la libera volontà del cittadino privato e delle offerte assicurative degne di questo nome quello che noi vi proponiamo è un meccanismo per il quale sulla tassazione si va a chiarezza tra di noi noi vi diamo ai comuni tutta la unica tassa comunale una quindi non vale più il meccanismo dell'IRPEF questo crea dei problemi io avevo l'addizione IRPEF allo 0,2 quindi tra le più basse è chiaro che il comune di Firenze oggi se si va a conguaglio rischia di essere paradossalmente svantaggiato da questa misura perché noi diciamo che l'addizione dell'IRPEF non esiste più passa tutto allo Stato l'IRPEF e tutto ciò che è quella che oggi sta dentro l'Imu la Tasi le varie imposte vengono ridotte a una al massimo due se vogliamo tenere la tassa sui rifiuti a parte che vuol dire che non ci deve essere più la tassa la COSAP la TOSAP la tassa sulle affissioni pubblicitarie sui passi carrabili un'unica tassa comunale di cui voi siete i responsabili per cui se la alzate al massimo sono i vostri cittadini che decidono se fate bene o no se la alzate al massimo avete gli asili più belli del mondo magari sono tutti contenti se la tenete al minimo i servizi si fanno schifo magari vi mandano a casa però c'è una responsabilità la stagione quella tassa a salso maggiore Filippo la mette allo 0,6 punto se nel comune accanto è all'1 o allo 0,2 i cittadini di salso maggiore verificheranno ciò che ha fatto Filippo e decideranno in autonomia se ha fatto bene o male questo è il modello al quale stiamo andando è chiaro e scusatemi se sono stato un po' noioso sulle questioni amministrative che questo lavoro potrà funzionare soltanto in una logica di piena collaborazione con l'Anci che pure in questi giorni ha chiuso un accordo importante con il governo e ringrazio tutte le strutture dell'Anci ed è chiaro che questo lavoro porta a un cambiamento radicale del sistema perché si va a un rapporto dove si smette di avere un fisco complicato oggi il fisco prima ancora che essere caro è complicato non ci si capisce niente non c'è una scadenza che sia la stessa per tutti abbiamo destagionalizzato il fisco ci sono scadenze una volta al mese noi stessi voi stessi sindaci ora mi sto allargando voi stessi sindaci alla fine non avete mai certezza di quando si può pagare quando no e allora proroghe su proroghe un meccanismo chiaro il giorno inizio si paga le tasse perché la tassa del comune si paga questa tassa del comune è chiara in prospettiva il bollettino precompilato arriva per bene non come è accaduto da qualche parte sulla tasi indecente non c'è bisogno di andare al commercialista per pagare la tassa perché poi c'è un elemento o a fare la coda negli uffici e questa è la proposta che noi facciamo e sulla quale stiamo lavorando sono stato fin troppo lungo sulle questioni amministrative però ci tenevo molto e ce ne sarebbero molte altre da discutere per esempio su come noi possiamo e dobbiamo intervenire anche sulle fusioni tra comuni non so come sta andando qui se qualcuno l'ha fatta nessuno per adesso credo uno quindi quante comuni avete messo insieme due e poi solo uno quindi eravate 47 sono 46 ora dove non so com'è la tua esperienza dove si stanno facendo ve lo voglio dire perché anche io non ci credevo molto funzionano poi immaginate da noi fiorentini dove è quello fiorentino di sopra fiorentino di sopra guelfi e ghibellini quando alla fine i guelfi hanno vinto i guelfi si sono rimessi a litigare i guelfi bianchi e i guelfi neri per continuare a tenersi in esercizio e quindi noi quando mi hanno detto che Scarperia e San Piero Assieve o Figline Incisa si mettevano insieme ho detto beh speriamo bene e invece le cose stanno funzionando un po' in tutta Italia anche qui purtroppo quasi tutto al centro nord però in ogni caso anche questo è un nuovo meccanismo di lavoro che deve essere valorizzato sempre di più l'ho fatto troppo lungo vi dicevo però voglio finire dicendo un paio di ultime cose una Gabriele al di là che avete fatto bene a chiedere al sindaco di tenere le scuole più chiuse il momento di massima popolarità mia è stata come a nevicata a Firenze ero convinto che i fiorentini fossero arrabbiati e alcuni fiorentini erano molto arrabbiati ma i ragazzi delle scuole a fare appallate di neve su Facebook e Twitter e di renditi chiudici la scuola questi sono i grandi momenti che ciascuno di noi sa essere decisivi e fondamentali nella carriera di un politico battute a parte io credo che noi nei confronti dei ragazzi abbiamo un obbligo importante che è quello di istituzionalizzare il servizio civile allargando e consentendo a tutti quelli che lo vogliono fare di farlo è una riforma che non si fila nessuno anche domani non troverete neanche un trafiletto su sta roba è una riforma sulla quale abbiamo non soltanto aumentato i soldi per il terzo settore 500 milioni di euro contro i 400 per il 5 per mille abbiamo anche messo le risorse per fare finalmente per chi lo vuole anche deve essere obbligatorio ma universale sì se oggi uno vuole fare il servizio civile non lo può fare se non è dentro i numeri questo passaggio sul servizio civile è una idea molto importante perché dà il messaggio della comunità da cui sono partiti da cui voi siete partiti da cui è partito dal sindaco dai sindaci fino all'intervento di Greci ecco questo è un argomento al quale veramente vorrei dedicare la chiusura perché tutti voi con la vostra fascia hai fatto benissimo a metterti quella bianca verde rossa anche per quella blu no io lo non so quanti di voi hanno fatto i presidenti della provincia siamo in due no non c'è partita tra quella tricolore e quella blu non so è come il prosciutto di Parma e è di culatessi ok giustamente no ecco questa basura sul toscano potevate risparmiarvela comunque vabbè non l'ho sentito però il punto centrale a meno che non si dica quale facciamo stare il punto centrale che voglio dirvi è esattamente questo la vostra fascia tricolore è il rappresentante diciamo il simbolo di un popolo voi sapete che per un sindaco lo sa chi ha fatto il sindaco anche che adesso è in Parlamento non c'è partita in termini di impegno mentale anche chi sta in Parlamento si rende conto che è un'esperienza bellissima immagino ma l'idea di fare il sindaco dove sei reperibile ahimè 24 ore su 24 sei responsabile di tutto la squadra di pallavolo femminile vince la partita in trasferta nel comune accanto ed è festa grande lunedì mattina in comune il dramma per me per motivi anche diciamo personali degli incidenti stradali ti tocca per cui succede una cosa ragazzo e quella famiglia ti resta nel cuore impressa per tutta la legislatura e anche per dopo un ragazzo della scuola vince le olimpiadi di matematica o se volete una realtà del volontariato riesce a far vedere un progetto per cui un ragazzino down dimostra straordinariamente la sua forza e la sua straordinaria bellezza quante esperienze che tutti noi conosciamo potremmo andare avanti per una giornata e tutti ciascuno di noi potrebbe portare una cosa bella e anche un problema noi però siamo una comunità e allora quello che io vi propongo indipendentemente dal colore politico è cercare di risolvere i problemi puntuali noi siamo disponibili qui trovate sindaci di colori diversi lo dico ai giornalisti questi sindaci rappresentano coalizioni diverse ma come sindaci e come rappresentanti di questa fascia tricolore vi chiedo dal profondo del cuore di continuare a credere nel fatto che l'imera ce la possa fare se ci sono delle cose da cambiare io per primo sono disponibile a cambiarle ma vi prego facciamolo insieme e non cediamo al pianisteo alla rassegnazione alla lamentazione perché chi vuol far cedere l'Italia oggi è chi pensa che l'Italia non abbia futuro e io in questa terra che è ricca di passato voglio dirvi invece che il momento migliore deve ancora arrivare per cui di cuore in bocca al lupo per il vostro servizio e grazie per la vostra accoglienza e grazie Federico per la tua accoglienza qua in bocca al lupo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti